ricordati di me genesi capitolo 40 versetto 14 tu sei importante per dio ricordati di me questa richiesta fu indirizzata al coppiere del re d'egitto da giuseppe rinchiuso con lui nella stessa prigione il coppiere del re aveva fatto un sogno del quale giuseppe rivelò l'interpretazione sarebbe tornato libero al servizio del re con quelle parole toccanti giuseppe gli stava chiedendo di intercedere per lui dimenticò la promessa fatta alcuni secoli dopo la stessa invocazione risuonò sulle labbra di un altro uomo in uno scenario ben diverso tre uomini erano appesi ad una croce uno di loro era gesù il figlio di dio il santo e il giusto gli altri due erano dei peccatori uno dei due rivolse al gesù questa importante richiesta ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno come risposta quest'uomo ricevette una promessa oggi stesso sarai con me in paradiso la sua richiesta ricevette pronto esaudimento perché era stata rivolta a gesù colui che non dimentica nessuna invocazione del nostro cuore andiamo quindi a lui con piena fiducia perché egli ci ascolta e non si dimentica di noi grazie 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 grazie